Il Vallo di Diano e il Cilento cantano a Sanremo grazie all'associazione Terre del Bussendo in missione festival già da alcuni giorni con un esercito di 30 persone. Qui Casa Sanremo è il format quotidiano in onda in contemporanea sui canali del digitale terrestro Bussendo Channel e Italia 2 TV soprattutto e sul web su Sabri Live condotto da Francesco Lombardi. Ogni giorno fino ovviamente a sabato giorno della finale dalle 19 Lombardi in diretta da Casa Sanremo con ospiti fissi in studio, il produttore musicale Dario Cantelmo e Maria Concetta Martino racconterà tutto ciò che accade nella città dei fiori. Previsti collegamenti quotidiani con i sindaci dei comuni partner dell'iniziativa e ogni giorno si parlerà del festival con il collegamento di un opinionista d'eccezione ovvero il presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino grandissimo appassionato della rassegna canora. Collegamenti quotidiani saranno garantiti anche sulle frequenze radio MPA e radio DGS un appuntamento quindi da non mancare ogni giorno alle 19 su Italia 2 TV